Noi stiamo ancora chiedendo l'interessamento in merito al passaggio per la linea 709. Alla mia spalla c'è già una fermata esistente ed è questo che noi chiediamo, fare una fermata a via Massimo Troisi e spostare quella della Residenza del Presidente sulla Colombo, spostarla davanti al Fabulos che andrebbe a servire sia ai clienti del Fabulos e scendendo per via Massimo Troisi automaticamente servirebbe anche tutta la nostra zona. Perché noi residenti, sapendo che qua ci passa un autobus che poi ci collega con l'Euro, è una valvola di sfogo nelle more della realizzazione della fermata del trenino. Perché ovviamente questa già esiste a fermata del trenino, bisogna ancora realizzarla. Quindi in questo frangente mettere un mezzo che ci colleghi direttamente con l'Euro, a noi ci salverebbe da tutte le inconvenienze che ci dà questo 013 nel nostro quartiere. Stiamo riuscendo a creare un'altra opportunità per i giovani, per gli anziani, ma per tutto il quartiere. Perché qua noi non abbiamo nulla, ci dobbiamo spostare per guardare un negozio. Perché i negozi che stanno da noi sono negozi di genere di conforto e non genere di letto. Quindi noi stiamo ancora in attesa di questa commissione che pare sia stata richiesta.